ciao a tutti amici installatori e benvenuti a questo nuovo video di lince io sono daniele torcivia e sono il lince security specialist per la sicilia e la calabria oggi vi farò vedere come è possibile abbinare una periferica ad una nostra centrale in questo caso una gold tosca che è una centrale che gestisce 64 periferiche radio due filari espandibili a 7 e lo faremo appunto tramite il nostro portale cloud vi ricordo intanto di seguirci su tutti i nostri canali social che trovate qui in basso adesso andiamo appunto a fare questa dimostrazione questo è il nostro portale cloud dove una volta associata configurata correttamente la nostra centrale ci troveremo in queste in questa pagina per andare a abbinare quindi il sensore alla centrale basterà andare a cliccare su amministrazione sistema comandi centrale e andare a cliccare su memorizza dispositivi radio vi ricordo che per l'associazione del sensore in questo caso io vi faccio vedere come è possibile associare un contatto magnetico porta radio applicabile anche su porta blindata bisogna appunto partire sempre dal sensore disalimentato una volta fatto questo basta andare a cliccare memorizza dispositivi radio vi ricordo che l'alimentazione costituita da questa batteria al litio quindi faccio memorizza dispositivi radio avvia e vado ad alimentare il sensore una volta alimentato il sensore piggio su tre volte su questo tamper 123 come vedete acquisizione in corso ed eccoci qua la centrale ha comunicato con il sensore e ce lo ritroviamo qui e qui praticamente possiamo noi andare a stabilire i parametri del sensore quindi in questo caso lo possiamo nominare questo sensore quindi lo chiamiamo magari contatto 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 porta ingresso ad esempio porta ingresso decidere a quale programma associarlo in questo caso vi ricordo che abbiamo sempre tre programmi g1 g2 g3 appunto per parzializzare il nostro sistema di allarme qui abbiamo anche altre opzioni in questo caso per esempio parzializzabile è l'appunto l'abbiamo messo parzializzabile qui possiamo stabilire anche diciamo i percorsi l'associazione al tipo di allarme e basterà fare applica ed eccoci qua dispositivo acquisito con successo quindi abbiamo trasferito diciamo tutti i parametri al sensore e il sensore è pronto per per lavorare così anche per tutti gli altri sensori quindi che si tratti di un volumetrico da interno a infrarosso oppure che si tratti che si tratti di un di un quindi dicevo che si tratti di un volumetrico ad infrarosso disponibile anche in doppia tecnologia o di un nostro rilevatore da esterno bopi o del nostro baby quindi tutto molto semplice tutto molto intuitivo e quindi questo insomma vi ricordo che i nostri prodotti sono acquistabili dal sito di lince.net alla sezione e shop dove appunto gli installatori hanno degli sconti a loro riservati sito è riservato soltanto agli installatori quindi il privato non può accedervi comunque non può vedere i prezzi e quindi questo non mi resta altro a questo punto di rimandarvi al prossimo appuntamento con i nostri video auguro a tutti un buon natale e seguiteci numerosi e mi raccomando iscrivetevi numerosi sul nostro shop troverete tra l'altro anche i miei contatti all'interno del sito di lince.net vi ricordo che io sono daniele torcivia e sono il lince security specialist per la sicilia e la calabria alla prossima ciao a tutti